Sindaco De Martini, se siamo sul manto erboso dell'antistadio del campo Mastrangelo di Montesilvano, un impianto che a breve potrebbe tingersi di biancazzurro. Un'opportunità che deriva da una proposta che è stata fatta qualche tempo fa dalla Pescara Calcio per la gestione e la manutenzione del campo dello stadio di Via Senna che è qui alle mie spalle. Ovviamente l'operazione è molto più ampia perché al di là della gestione e della manutenzione della struttura che verrebbe utilizzata a quanto pare dalla primavera ma anche dalla prima squadra del sodalizio biancazzurro, ci garantirebbe all'amministrazione e alla città anche la custodia di tutti e due gli impianti, quindi di quello di Via Senna quanto di quest'antistadio, il miglioramento per tanti versi di tutte e due le strutture e quindi noi coglieremmo due piccioni con la fava come si vuol dire perché oltre a dare lustro alla nostra città perché sarebbe un piacere ospitare il Pescara, avremmo qualcosa che negli anni invece è mancato per carenze di natura economica ma anche umana. Questa è un'operazione a costo zero per l'ente, tutto quello che riguarda la riqualificazione e la ristrutturazione della struttura dello stadio sarà ad onere del proponente che inoltre si impegna, oltre che a riqualificare e migliorare anche la struttura con la creazione di nuovi impianti come un campo da paddle e una palestra, si accollerà anche la custodia e la manutenzione non solo della struttura stessa ma anche della pista di atletica e dello stesso antistadio e soprattutto non lascerà l'antistadio a piena disponibilità delle società di Montesilvano e nonostante questo si farà carico del pagamento delle utenze dell'antistadio stesso quindi luce, gas e tutto il resto non graveranno più sul comune che comunque invece continuerà ad introitare le tariffe delle società.